Ciao a tutti! Stiamo bene! Voi direte, cosa ci fai tu con questo lenzuolo blu? Non è un lenzuolo, guardate che fai. È una felpa, è la nostra felpa che ci siamo fatti fare per Natale, come potete vedere, cioè il nome del nostro canale, è un piccolo inconveniente di nome, nel senso che qui ci dovrebbe andare, questo ci dovrebbe andare, in realtà, però non fa niente, il nostro QR che poi possiamo provare a dare una dimostrazione funziona, lo sappiamo, il nostro immancabile logo e ancora il immancabile, come lo sa qua, indirizzo web. Volevamo condividere con voi la nostra fantastica nuova felpa di un colore bellissimo devo dire, mi è piaciuto molto, l'avevamo pensato in origine così, poi ci siamo convertiti al grigio, poi il grigio non era disponibile e siamo tornati così. sentite quello dietro la macchina da presa, il proprietario di questa maglia che vende. La maglia che vende è enorme. E vabbè, non mi fa da vestitino esattamente, però vi faccio ammirarla lì, scusate. Così non dobbiamo nemmeno spostare troppo la telecamera. Guardate, guardate benissimo, c'è il toscone, molto comodo, il cappuccio, per la pioggia e poi l'adeguazione di dietro. Aspetta un attimo che inquietriamo. Il QR funziona, però assicuriamo. Vogliamo fare una prova? Basta unirsi di un telefono di ultima generazione, batteria al 15% del programmino per leggere i QR. Aspetta, vuoi che lo inquadro? Massimo o in grandi meno devi venire tutti avanti. Vedete che si metta a fuoco? Vabbè, comunque anche se non si è messo a fuoco avete capito. Ok, ho capito, ok. Dopodiché, adesso come faccio? Prendere una saglia. Io spero ovviamente che il nostro associativo di Cromakin funzioni. Aspetta che ti sei spostata o ti metti più in mezzo. Ecco, quindi noi non ci mettiamo la faccia come gli altri youtuber, non siamo tanto capaci. E vorrei farmi andare. Si vede? Aspetta, vorrei metterlo a fuoco. Forse se la bici di più ci riusciamo. Aspetta, aspetta. Capite dal messaggio più o meno che, ecco qui c'è la batteria scarica adesso sul messaggio. Comunque sotto il messaggio batteria scarica. Ok, pardon. Vabbè, continuiamo per vedere che ci porta al nostro canale YouTube. E dal nostro canale YouTube potete visitare i nostri blog, ovviamente. Anzi, vi invito a farlo, perché è una lettura piacevole. Perché sei venuta sfocatissima. Ok, torno indietro. Aspetta che sta caricando nel frattempo la novella. Così. La batteria mi sta per lasciar piedi. Però come avete potuto vedere, nonostante sia leggermente sgranato, ma... Posso farlo in cappuccio? Stai assegurando la paglia qui. Oh, fantastico. Nonostante sia abbastanza sgranato, però funziona lo stesso. Ta-da! Aspetta, devo mettere il fuoco? Sì. Ok, più o meno si intuisce. Si intuisce. Ok, il mio telefono sta morendo. Perfetto. Ok. E faccio che possiamo concludere qui. Il nostro video di presentazione delle mani. Oh, se le volete ve le facciamo fa. Certo, ovviamente. Se volete maglie, t-shirt, cappellini, un paio di pantaloni, delle scappe rullate. Noi ordiniamo tutto. Con una modica spesa. Con una modica spesa, una modica cifran e spesa. Una modica cifran, insomma, Marco. E vi potete deliziare con noi ad indossare le nostre pantaloni. Ciao! Grazie.